Se ti capita spesso di avere pesantezza della testa, testa che a fine giornata non riesce a tenerla su, che si trasforma in mal di testa o pressione, prende la fronte, sintomi di questo tipo con anche fatica visiva magari, bene, allora le informazioni che ci sono in questo video ti possono interessare molto. La pesantezza della testa e tutti i sintomi che ho citato prima sono molto spesso legati alla stanchezza dei muscoli cervicali. Quando vai per esempio a fare una corsa e le gambe ti si stancano, ti sdrai, ti siedi, le gambe si rilassano e ovviamente immediatamente stai meglio. Nel caso dei muscoli cervicali quando si stancano non è possibile più di tanto scaricare il peso della testa perché la testa la devi tenere su comunque, quindi se stai davanti a un computer molto tempo e ci devi continuare a stare, la testa a un certo punto può apparire molto molto pesante. Ed è proprio legato allo stesso fenomeno, i muscoli si stancano, non riescono a tenere sul loro peso, questo appare sempre più pesante. I muscoli cervicali possono essere troppo stanchi rispetto al compito che dovrebbero fare perché loro dovrebbero riuscire a tenerti sulla testa senza problemi per molti motivi. Possono essere per motivi legati al movimento, alla meccanica, se hanno subito degli incidenti, se ci sono stati dei, se hai avuto dei traumi, dei colpi di frusta, oppure se hai subito importanti sovraccarichi, se tuttora subisci importanti sovraccarichi alla colonna cervicale, ma non solo. Anche fattori legati al metabolismo, soprattutto all'infiammazione generata da un'alimentazione o un po' così così, può contribuire negativamente alla performance dei muscoli. E non ultimo, le cause riguardanti il sistema nervoso e lo stress emotivo sono molto importanti perché quelle possono irrigidire molto i muscoli cervicali, alla lunga di irrigidimento questi diventano più facilmente affaticabili. Chiaramente sarebbe importante capire le cause principali nel tuo caso, lo si può fare, ci sono dei test per capirlo in autonomia, ci sono dei test ovviamente professionali, ma la sostanza è che alla fine, la fine di questo processo è appunto una minor performance dei muscoli cervicali, quindi una loro maggiore affaticabilità. Andando a lavorare su quelli, quindi su quest'ultimo aspetto a valle, puoi avere comunque dei miglioramenti immediati e dopo pensare alle cause. Per avere dei miglioramenti immediati possiamo fare due esercizi. Due esercizi che vanno ad allungare la muscolatura, uno la muscolatura posteriore e uno la muscolatura anteriore. Allungando la muscolatura andiamo comunque ad alleggerirne il carico di tutta la muscolatura posturale, ma in particolare di quella cervicale. Quindi per il primo esercizio ci andiamo a mettere in questa posizione, più diritti possibili come partenza. Pieghiamo in avanti il collo e generiamo una piccola tensione, lieve. Pieghiamo in avanti le spalle e generiamo un'altra tensione, deve essere lieve. Dopodiché vado in avanti con le mani. Se possibile tengo i piedi a martello se non genero troppa tensione sui polpacci. E arrivo, arrivo dove arrivo? Arrivo a metà della tibia, arrivo la caviglia, arrivo la punta del piede, arrivo oltre. L'importante è che io generi una tensione modesta e che tenga la testa ben piegata in avanti. Mantengo questa posizione respirando lentamente per un tre minuti, facendo una pausa ogni minuto. Questo serve per allungare la muscolatura posteriore. Lo sentirei soprattutto dietro le gambe e tenendo la testa ben piegata in avanti, anche un po' dietro il collo. Per tirare la muscolatura anteriore utilizzo un ben poco tecnologico manico di scopa e lo prendo poco più largo delle spalle. Mi metto nella medesima posizione, ma qui è utile avere dietro una parete in modo da essere più diritti possibili. Quindi mi metto schiena contro il muro. Mettasi schiena contro il muro con il sedere ben indietro probabilmente genera già troppa tensione, allora puoi scivolare un po' in avanti con il sedere in modo da essere un pochino più semisdraiato. La posizione di partenza non deve essere eccessivamente scomoda. E da questa posizione porto in alto fino a che non genero una tensione verso la spalla. In zona spalla più o meno si sente. E ritorno. Ovviamente se sono contro un muro o dietro la parete, quindi il mio blocco sarà la parete, però se quando arrivo dietro la parete non sento tensione, allora posso farlo anche in questa posizione. Sto a diritto e arrivo dietro fino a dove riesco ad arrivare. Mantengo 3 o 4 secondi e rilascio. Mantengo 3 o 4 secondi e rilascio. Una trentina di volte, facendo magari una pausa ogni 10, con questi due esercizi vado ad alleggerire la muscolatura posteriore e la muscolatura anteriore diciamo tutti i muscoli che vanno maggiormente a gravare su quello che è il sintomo pesantezza della testa. Se vuoi approfondire maggiormente il tuo disturbo cervicale vai su mio sito all'altrareabilitazione.it consulta la mia guida cervicale stop della quale puoi anche scaricare una demo gratuita. Lì trovi tutto sia per capire che tipo di disturbo tu abbia, sia per cominciare a risolverlo da subito e nella guida completa trovi anche proprio un sistema altamente personalizzabile per creare il tuo percorso. Da sito all'altrareabilitazione.it mi puoi anche contattare per qualsiasi cosa, qualsiasi informazione sono a disposizione. Ciao e alla prossima!